Siamo molto più simili ai cristalli di quanto uno possa pensare. Sapevo che mi aspettavo una cosa straordinaria. Avevo preparato lo spirito e la mente alla meraviglia. Pensavo davvero di essere pronto. Ma ciò che mi ha accolto non è di questo mondo. Ci sono delle condizioni in cui la materia disgregandosi crea delle strutture ordinate. Dal primo giorno che ho messo piede in quel forno alieno, ho avuto un chiodo fisso. Raccontare la bellezza inspiegabile, il rischio, la paura. Mano a mano che prendevamo coscienza, far capire a tutti il destino ineluttabile della sua scomparsa. Abbiamo provato a farlo in vari modi, ma mancava quello più importante. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro.